Siamo sempre stati messi e etichettati come quelli che fanno bel male, i negativi, i lupi della notte. In realtà noi siamo sempre quelli che servono le persone, famiglie comprese che vengono a mangiarsi un parino e siamo i più esposti. Non ci sta Valentino Burlò, titolare del Risto Pub Orfanelle, situato nel centro storico di Fano. Dopo aver imposto la chiusura per tre mesi nella scorsa primavera, l'ultimo decreto fa chiudere i battenti all'ora in cui molti iniziano a lavorare. 5, i dipendenti di questo locale che rimarranno senza lavoro. Il pranzo non lo vedo un'opportunità perché comunque la media del target di Fano, soprattutto per chi ha bisogno di pranzare, sono buoni pasto e spese che, diciamo, prezzi che siano tra i 7,50 euro, 12,50 euro, non ci troviamo al margine per poterlo fare. Beh, siamo stati bravi, dirigenti, professionali, ci siamo riusciti a starci dentro, abbiamo rifinanziato, abbiamo fatto ripartire la produzione con anche buoni risultati. Questa seconda, che prevede altri finanziamenti, ci mette in crisi, ci mette, andiamo proprio a chiudere tutto quello che è stato fatto di buono e anche tutto quello che è stato cucito come ferita tra il periodo di marzo e questo periodo. L'imprenditore non comprende le scelte del governo perché crede che le situazioni in cui si verificano sembramenti siano altre, come al mercato, ad esempio, o sui mezzi di trasporto pubblico locale. Si vede lontano meglio che i bus non ci sono, che nelle piccole città già vengono a mancare questi servizi pubblici, per la quale si è avuto otto mesi di tempo per attrezzarli. Adesso si chiede ai privati, a gente come noi, di colpabilizzare la notte, quando poi, tra l'altro, la notte è anche sempre più prestiva. E io vedo invece che i comportamenti dei ragazzi e all'interno del mio locale, all'interno del mio locale, sono stati anche abbastanza dirigenti. Le norme assicura il titolare qui sono sempre state rispettate. L'ultimo controllo delle forze dell'ordine è avvenuto lo scorso fine settimana. Fatto ciò, si è sempre nel dubbio di averlo fatto bene. C'è sempre qualche sceriffo che esternamente o internamente ti voglia dire qualcosa. Delle cattiverie, secondo me, anche inutili. La gente che dice, ah, alla fine è anche colpa vostra. Ma come ti permette di dirmi una cosa del genere? A noi che ci siamo già in un bagno di sangue a fare sacrifici, in totale legalità, in totale professionalità, è un'umiliazione dopo 35 anni sentirsi questa cosa. Le ho gestite locali in tutta Europa. Sono tornato in Italia e mi devo sentire una cosa del genere. Io mi chiedo se queste persone, forse magari siano un po' stressate, posso capire che andare a fare le ronde notturne fuori dai locali non sia festeggiato. Ma deve essere anche spiacevole andare a rompere le scatole, scusate il termine, in un locale che entro le mezzanotte e dentro i termini, sinceramente lo sta facendo legalmente. Siamo tutti padri di famiglia alla fine. Potremmo chiudere i locali per altri sei mesi, otto mesi. Dopo diteci dove dobbiamo andare. Probabilmente magari vado a fare l'autista in corriere.